Un terremoto colpisce l'Italia questa sera, lunedì 26 giugno 2023, ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate prima di sostenerci con ammirazione per questo video, motivandoci a continuare, e anche di iscrivervi al canale e attivare la campanella su tutte le notifiche in modo da ricevere tutto ciò che è nuovo ed esclusivo relativo al tempo in Italia, momento per momento e notizie di terremoti esclusivamente al momento del suo verificarsi, e grazie, se la Terra ha tremato poco fa nel sud Italia, in particolare nella regione Calabria, a 134 km da Messina, e a 16 km da Mesoraca. E secondo il Centro Europeo per il Monitoraggio Sismologico, questo terremoto è avvenuto alle ore 12.50 della sera, ora locale, e secondo lo stesso fonte, l'intensità del tremore è stata stimata tra circa 2,2 e 2,8 gradi sulla scala Richter, ed è un terremoto piuttosto lieve che a volte può non essere avvertito, ma è monitorato da sismografi avanzati, e fortunatamente questo terremoto non ha causato eventuali perdite, e stiamo dando seguito ad ogni altra notizia importante di cui vi comunicheremo in seguito. Infine, che tu sia in buona salute!